Ciao ragazzi, eccoci con il video post partita di Udinese Genoa, terminata 1-0 per l'Udinese Oggi è una giornata un po' particolare, è inutile che vi dica il perché, ne andremo a parlare dopo Ne andremo a parlare dopo, andiamo a parlare della partita, adesso terminata 1-0 Terminata sul risultato di 1-0 per l'Udinese, giusto Perché non tanto per quello che si è visto in campo, ma se tu dimostri di essere un pollo Meriti poi di perdere in questo modo, perché poi alla fine sarebbe stata una partita da 0-0 E vi dirò la verità, 1-0-0 lo avrei preso, zitto zitto me lo sarei preso tranquillamente Anche un 1-1 perché poi lo avevamo segnato sostanzialmente il gol dell'1-1 Ma ne andremo a parlare dopo anche di questo Sconfitta meritata, l'Udinese non ha fatto niente più di noi Due squadre grammi, penso che anche gli stessi tifosi dell'Udinese riconoscano che siano grammi loro Io, tifoso del Genoa, come tutti i tifosi del Genoa Diciamo che noi stessi tifosi del Genoa riconosciamo allo stesso tempo Che appunto il Genoa sia veramente grammo In condizioni pessime gestito da un pezzo Un grandissimo pezzo di merda Passatemi il termine perché davvero Mi sono rotto tre quarti di belino Di vedere il suo presidente qua Lasciam perdere ragazzi, lasciam perdere Credo che abbiate capito Credo che abbiate capito Poi due squadre grammi E onestamente Un pareggio che ci poteva stare Ma se tu fai sti errori in difesa È ovvio che poi vai a prendere un gol Da polli Tra l'altro su una palla che stavamo gestendo noi Una palla che stavamo gestendo noi L'abbiamo persa proprio come dei polli E De Paul De Paul Lasciando perdere questo De Paul ci purga Giustamente perché ha tanto campo Per calciare Ci può fare poco Perché De Paul Ha un buonissimo tiro Specialmente se gli lasci tutto sto campo Poi del resto l'Udinese Oltre al gol e alla traversa Presa nel secondo tempo Sempre con De Paul su punizione Non ha fatto nient'altro E noi non abbiamo fatto nient'altro Oltre al gol Poi nel primo tempo Abbiamo avuto Un'occasione che poteva essere Il gol del vantaggio Con Bani Che sbaglia veramente L'impossibile Perché sbagliare un gol così Nemmeno in fuorigioco È impossibile Un gol di testa Sbagliato in un modo clamoroso Poi l'Udinese appunto Passa in vantaggio Noi che negli ultimi 5 minuti Ci facciamo vedere Paratona di Musso E poi Dopo appunto il calcio d'angolo Arriva Dopo Vari contro cross Arriva il pareggio Di Scamacca Gol che però viene annullato Adesso andiamo a parlare anche di questo Gol che viene annullato Giustamente Ma secondo me È il solito gol Che non è uno scandalo Averlo annullato Come non è uno scandalo Come non sarebbe stato uno scandalo Scusate Diciamo darlo Perché Molti gol Con mezzo piedi in fuorigioco Sono stati dati E Penso che Cioè sì Tanti tanti gol Sono stati dati Per mezzo piedi in fuorigioco Però La regola è questa E se Hai la possibilità di vederlo Di vedere bene Con chiarezza È giusto Sostanzialmente Averlo annullato Ma Tanti tanti gol Sono stati dati Per mezzo piedi in fuorigioco Io In Vari anni Di Genoa E di calcio Appunto Che seguo Ho quasi sempre Visto questi gol Come validi Per mezzo piedi in fuorigioco Comunque Lasciando perdere questo La Var Mi sta sempre più Sulle balle Veramente Mi ha rotto Mi ha rotto tre quarti di Bellino Anche la Var Perché Pensavo potesse essere utile Ma Mi ha già rotto il Bellino Dopo Dopo la prima stagione Mi aveva già rotto il Bellino E Comunque Partita Perso 1-0 Non Meritatamente Per quello che si è visto in campo Ma Non che sia una cosa buona Perché Abbiamo giocato male Noi come ha giocato male L'Udinese Perso meritatamente Invece perché Siamo dei polli Il punto Cioè Fare un errore così E fare degli errori così Non si può vedere Cioè Questi errori Non si possono vedere Comunque Ora vorrei Passare Velocemente A Ciò che è accaduto oggi Giornata Veramente Particolare Ci ha lasciato Un nostro Grande campione Un saluto Al grande Campione Diego Armando Maradona Ho qua la maglia Se volete La faccio vedere Aspettate Questa è la maglia Del Boca Juniors Con la scritta Maradona dietro Faccio un grande saluto A tutti voi E un grande saluto A Maradona Al prossimo Grazie.